Messaggio per i nostri telespettatori. Con il nuovo digitale terrestre, su tutto il territorio dell'Abruzzo e del Molise, per continuare a ricevere i canali Rete8 e Rete8 Sport, potrebbe essere necessario risintonizzare i televisori. Una volta effettuata la risintonizzazione automatica, digitando 10 sul telecomando troverete Rete8 e provvisoriamente Rete8 Sport digitando 75. Rete8, la TV leader di Ascolti in Abruzzo. Info su www.rete8.it